La pompa cariola a batteria da 100 litri è il prodotto ideale se sei un giardiniere o un appassionato di giardinaggio ed è ottima per la vaporizzazione di acqua, i trattamenti chimici per le piante e per la disinfezione di aree verdi e aree chiuse. È un prodotto di ultima tecnologia caratterizzato dalla grande stabilità e dall'ottima portabilità data dalle grandi ruote e dallo stabilissimo cavalletto orientabile. La pompa monta un motore da 300 watt di potenza alimentato da una batteria da 12 volt con 36 ampere di capacità che garantisce un'autonomia di lavoro di circa 6 ore. Grazie al regolatore di pressione posto sul fianco è possibile regolare la pressione di esercizio da 1 a 10 bar verificandone lo stato dal manometro posto in alto. Sulla parte frontale invece abbiamo un pannello di comando con la presa di ricarica, lo switch on off, il voltimetro per verificare la carica della batteria in qualsiasi momento e il fusibile di sicurezza. Sul lato della tanica principale abbiamo un piccolo serbatoio bianco da 1,8 litri con un piccolo rubinetto che può essere riempito con acqua per lavarsi le mani nel caso di utilizzo di prodotti chimici durante il lavoro. Sull'altro lato della tanica invece abbiamo un tubo di livello che ci consente di controllare il livello del liquido all'interno del serbatoio principale in qualsiasi momento. La pompa è dotata di un sistema di filtri multipli per evitare ingorghi o intasamenti dovuti dalle impurità. Il filtro principale si trova sotto al manometro ed è facilmente raggiungibile e può essere svuotato anche durante il lavoro. La macchina è configurabile in due diversi modi. Quello che vediamo qui è con manici per il trasporto manuale, un avvolgitubo con tubo da 50 metri che resiste fino a 30 bar di pressione abbinato ad una lancia in acciaio lunga 65 centimetri con ugello regolabile. Andiamo ora a vedere la seconda configurazione. In questo caso abbiamo un gancio traine estensibile per piccoli mezzi agricoli come trattorini rasa erba, mentre sul retro abbiamo una barra per l'irrigazione dei tappeti erbosi. La barra tappeti erbosi modulabile ha un supporto con inclinazione a tre posizioni e monta un sistema di irrigazione con astine e fibra di vetro e ugelli con nebulizzazione a ventaglio. Gli ugelli possono essere incrementati da 4 a 6 con una semplice operazione e allungando la barra. È inoltre possibile chiudere da 3 a 5 ugelli grazie a delle speciali membrane per personalizzare al massimo il grado di irrigazione. Con questa barra si possono irrigare da 3 a 5 metri di zona verde.